C'è una persona animica, è una persona più intelligente del normale, non diventa un cretino. Se io divento più intelligente, non è faccio delle mosse per nuocere a me. Al Dalai Lama gli è stato chiesto, ma se entrasse un ladro pericoloso in casa tua, cosa faresti? Lui ha avuto molta compassione per le persone, non gli ha detto, te lo dico quando viene dentro casa, perché Dalai Lama vive nella verità e lo sa nel momento perché dipende da circostanze e da mille cose. Allora quella volta lui ha detto, vabbè sono bambini, gli ho detto, prenderei un bastone, gli spaccherai una gamba e poi vado lì e lo accarezzo. Cioè lo rendi innocuo e dopo, quindi non compio un atto di violenza, faccio ciò che va fatto, lo fermo. Se una persona fa, ricordatevi che l'anima non è per l'assenza di giustizia, ma per la vera giustizia, la giustizia vera, la giustizia riparativa. Se un altro ti ha buttato giù una casa, la rimetterà su. Mentre la giustizia punitiva è che l'altro non ti rimetterà sulla casa, ma se ne andrà in galera, poi uscirà dalla galera e cercherà di distruggervi quello che ancora fa. No, finisce più. Va bene. Cioè vi voglio stare sereni che non ci sono inconvenienti andare nell'altra. Adesso mettici queste due parole, tenerezza e vigore. Scrivi queste due parole. Tenerezza e vigore sono bellissime. Sai cosa sono considerate dai mistici le due qualità di Gesù? Massimo della tenerezza e massimo del vigore, che vuol dire nessuna paura. Le cose che vanno fatte, vanno fatte, si fanno. Ma senza violenza. Cosicché non si produce il male. Allora spero che vi rimanga questa frase. Non ci sono inconvenienti a diventare più intelligenti. Non ce ne è. Allora spero che vi rimanga questa frase.